ciao buonasera stasera sono qui per presentarti i due nostri clienti Susanna e Claudio che hanno sia venduto che comprato con l'immobiliare 2.0 sentiamo qual è stata la loro esperienza con noi, vieni con me, te li faccio conoscere Siamo con Susanna e Claudio che hanno venduto e comprato con l'immobiliare 2.0 tra l'altro voi avete usufruito anche il discorso del video marketing immobiliare per la vendita del vostro appartamento qual è stata la vostra esperienza oggi? francamente è stata un'esperienza molto molto positiva sia per la vendita e per l'acquisto secondo noi l'utilizzo direi quasi innovativo del filmato che hai fatto e che poi hai accostato sui social è stato determinante tanto è vero che praticamente il giorno dopo l'annuncio o perlomeno la pubblicazione abbiamo già degli appuntamenti per le visite e nell'arco di pochissimi giorni abbiamo concluso la trattativa per la vendita in realtà dal mercurio che mi pare di acquistare dal mercurio che mi pare di acquistare dal mercurio che mi pare di acquistare esattamente nel 3 o 4 giorni abbiamo diviso casa e abbiamo venduto anche al prezzo del mercato al prezzo del mercato e al prezzo che li troviamo noi con soddisfazione nostra e riteniamo anche dell'acquidente perché poi sono trovati molto molto bene insomma questo mi fa piacere poi tra l'altro l'acquisto del vostro immobile è stato un acquisto importante perché comunque avete fatto un... sì anche l'acquisto è stato... anche loro che lo sappia avevano... avrebbero messo insieme messo Claudia avevano pubblicato cioè l'annuncio era molto recente anche in quel caso lì e anche lì la casa ci è piaciuta fin dall'inizio però devo dire che indipendentemente dal gradimento nostro degli immobili quindi quello che è stato eccezionale è stato il supporto che abbiamo avuto da te se mi fa piacere in diverse situazioni che per noi era importante risolvere velocemente e che con il tuo supporto abbiamo risolto brillantemente in tempi praticamente a zero ma alla fine ci considereste vostri amici? l'abbiamo già fatto quindi vi ringrazio e vi faccio tanti auguri vi faccio un dono di una polizia assicurativa che ti prenderanno sul vostro nuovo immobile per un altro da parte del governo grazie grazie e vi faccio tanti auguri lascio il reggine a sua parte grazie